ecco il primo scatto della giornata è lui lo scalatore del gruppo josé martinez de joanes attraverso i luigi Aiaiaiai Che è Dio? Calma via Dio caro Calma via Calma via Si per senti Ehi? A fine? No, non ho mai sapato in inglese Buondi Non dire per l'altro Ma non posso Per l'altro Ma non posso Per l'altro Un paio di jeans Per l'altro Per l'altro Quanti Quanti Per l'altro Per l'altro Per l'altro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.